Un saluto a tutti gli amici del canale di YouTube e a tutti i campanari quest'oggi, questa mattina, una bella mattina dei primi di settembre o meglio del primo settembre ci troviamo davanti al santuario della Dolorata di Castelperluso ormai è diventata casa nostra qua praticamente siamo qui perché? Perché dobbiamo riprendere le campane come sempre però oggi al posto delle suonate per decenni per la missa riprendiamo le suonate di mezzogiorno come vedete mancano 4 minuti e praticamente riprenderemo quindi l'Angelus quest'Angelus che praticamente è comune per tutti i giorni dell'anno tranne per i festivi perché per i festivi, cioè domenica, non suona nulla perché c'è la missa in corso quindi cioè a mezzogiorno c'è la missa però non suona nulla invece nei feriali, quindi da lunedì al sabato e tutti i giorni dell'anno suona la suonata che staremo per ascoltare dovrebbe essere composta, vabbè, il battiore quindi ordinario poi parte l'Ave Maria di Lourdes e poi l'istesa di prima e di terza campana lì abbiamo, diciamo, il pilastro dove c'è la Madonna Assunta quella Madonna che praticamente è stata restaurata dalla Pontificia Fonderia Marinelli che ha chiaramente fatto e eseguito i lavori campanali bene, ragazzi, dal Santuario della Dolorata un saluto e alla prossima 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 un saluto e alla prossima